Fu lui a convincere Viagli, una volta smesso di giocare e allenare, a sedersi dietro una telecamera in uno studio televisivo per diventare uomo immagine. Claudio Rigoni, premiato a Venezia Palazzo Grandistazioni dalla Regione Veneto con il premio Comunicazione, racconta in esclusiva per le reti del gruppo Medio Nord-Elt come nacque Gianluca Viagli, uomo immagine. Gianluca Viagli è stato anche un grande uomo di televisione e ho avuto la fortuna e il piacere di poterlo coinvolgere spesso in progetti che poi sono diventati per lui la continuazione di quello che faceva sul campo ma solo davanti a una telecamera. A una settimana dalla morte del grande e indimenticabile campione allenatore dirigente anche a Venezia continuano ad arrivare ancora tantissime testimonianze di affetto. In quel momento ci fu chiesto da Tom Mokridge che era allora l'amministratore delegato di Sky Sport chi volessimo come grande testimonial sportivo per Sky. Entrambi indicammo Gianluca Viagli e questo lo portò poi a essere davvero l'uomo immagine per lo sport. È una storia che non molti sanno come è nata questa collaborazione fra Sky e Viagli ma devo dire che è bello averne potuto far parte e io credo anche che Luca Viagli abbia dato tantissimo al mondo della televisione e a come fare in modo che il calcio fosse normalizzato anche in tv.